Per conquistare il titolo italiano è stata dura, molto dura direi. Abbiamo affrontato tre tappe, nei quali la prima a Manfredonia, poi ad Aversa e la fine a Vasto, per arrivare alle finali di Nettuno, sconvincendo moltiplici avversari con molti più anni di esperienza di me, molto più grandi di me. È stata dura, però mettendoci tanto cuore e tanta passione ce l'ho fatta. Piano piano si riesce a fare tutto, basta solo volerlo. Quindi questo è il tuo messaggio per i giovani che magari vogliono approcciare a questa disciplina sportiva. Abbiamo detto tanti allenamenti, a chi vanno i tuoi ringraziamenti per chi magari ti ha sostenuto? Allora ringrazio tutte le persone che mi sono state sempre vicino, che mi hanno voluto bene, che mi hanno sostenuto su questo percorso che ho affrontato e che ancora sto affrontando, ma ringrazio soprattutto e principalmente Don Franco Maltempo, ringrazio Giovanni Di Tortoro, Giuseppe Carrano, la pasticceria di Elia e Angelo Greco, che mi hanno sempre sostenuto e aiutato ad affrontare questo percorso. Prossimi tornei, prossimi campionati o ora soltanto allenamento e poi si penserà ad altre competizioni? Allora per il momento ho tanto allenamento e tanto sudore da buttare in palestra, perché adesso dopo aver vinto il titolo italiano mi sono qualificato di conseguenza i mondiali che si terranno a Praga e spero di vincerli, ce ne la metterò tutta e speriamo di portare avanti questa situazione. Consigliere, allora una grande opportunità quella della kickboxing qui a Polla, data soprattutto da campione italiano assoluto in questa disciplina Luigi Liguori. Qual è il messaggio che magari anche un politico può dare per infondere la cultura dello sport nei giovani e non solo a Polla? Io penso che lo sport sia la base di tutto, lo sport aiuta anche a togliere tante persone in mezzo alla strada, ad aiutare persone che hanno dei problemi. La kickboxing è una disciplina nuova che noi stiamo seguendo da qualche anno, proprio perché è uscito questo bravissimo ragazzo fuori, proprio in questi giorni ha vinto il campionato italiano e noi come amministrazione comunale e come assessorato allo sport siamo molto vicini a questa nuova disciplina. Parliamo anche con Carmine Liguori di questa disciplina, ma di nuove discipline. Avevamo detto a microfoni spenti, nuove discipline anche per vecchi sportivi. Ma sia per giorni che per vecchi, noi stiamo cercando di portare avanti il nostro vallo, la nostra nuova disciplina che è l'aerospinbike, che comunque stiamo portando a conoscere a tutti. Spero che va avanti, spero che con l'assessore e con questa nuova disciplina sia importante come le arti marziali, come il pallone e come altro. Comunque, poi voglio ringraziare il nostro assessore e voglio ringraziare anche il presidente della VKF Italia, che comunque ha detto a chi vuole fare qualcosa nel nostro vallo e faremo un gran galà per il nostro gambione. E penso che l'assessore può dire qualche cosa su questo. Ecco, sfruttiamo l'assist. Qualche anticipazione per quanto riguarda questo gran galà che ci ha detto Carmine? Sì, come ti ho detto prima, noi stiamo seguendo questa nuova disciplina proprio perché abbiamo capito che in questo momento è una disciplina che sta andando bene e soprattutto perché abbiamo un campione in questo momento. Sì, ci stiamo preparando per preparare questo gran galà del King Boxing qui a Polla, però a livello europeo. proprio perché lui adesso ormai ha saltato il traguardo del campione italiano, adesso dobbiamo andare avanti e dobbiamo far conoscere questa disciplina anche nel Vallo di Diano e portare campioni europei. E ci stiamo riuscendo perché piano piano stiamo studiando tutte le situazioni e spero che nell'anno prossimo possiamo portare tutti questi campioni europei.